Non ci saranno richieste, c'è analisi della situazione, poi quindi naturalmente dovrà decidere, non tanto sui miei richiesti, ma dovrà decidere qual è la sua posizione, sia per quanto riguarda gli aspetti programmatici, per quanto riguarda la governance, le liste, tutto ciò che è indispensabile e necessario, e con la forza che è partita di maggioranza relativa qui sul Montevacchi, predisponga le modalità e gli interventi per le prossime elezioni. Naturalmente sono successe diverse cose, quindi dovranno essere analizzate e eventualmente tratto anche alcuni ciclioni. Io ho detto che sto valutando e valuterò la questione e non escludo che possa anche effettuare o proporre una mia lista per chiedere ai cittadini alcune cose e per raggiungere alcuni obiettivi che credo, con la modalità con le quali le primarie sono state svolte, non sono state raggiunte, anzi hanno pregiudicato lo svolgimento in modo trasparente e che io ritengo sia stato un dato molto negativo. Quindi nei prossimi giorni eventualmente ci sarà la decisione? Certo, entro la fine di questa settimana.